Mancano ormai pochi giorni alla maturità 2021 con gli studenti che si preparano ad affrontare l'esame che per il secondo anno vede le restrizioni per Covid-19. Ai nostri microfoni la dirigente scolastica Lucia Cimmino. I ragazzi anche quest'anno dovranno affrontare l'esame di maturità in una situazione particolare però diciamo che rispetto all'anno precedente non è che ci sono stati molti cambiamenti ad eccezione di un elaborato che i ragazzi dovranno comunque redigere entro il 31 maggio cioè entro oggi lo dovranno riconsegnare alla scuola e che avrà delle caratteristiche particolari. L'elaborato non sarà soltanto sulle materie di indirizzo ma dovrà avere una caratteristica interdisciplinare se non multidisciplinare. La novità in assoluto relativamente a quest'anno scolastico è che i ragazzi saranno diciamo affiancati da una figura che è di un altro docente o delle materie di indirizzo o di qualche altra disciplina che affiancherà l'alunno nella stesura dell'elaborato per dare loro un supporto quasi come una figura di tutor che accompagna l'alunno in questa stesura per far sì che il ragazzo possa chiarirsi le idee per i collegamenti per tutte le difficoltà che può incontrare durante lo svolgimento di questo elaborato. A differenza dello scorso anno però che gli alunni si sono recati a scuola solo ed esclusivamente per fare l'esame di maturità e l'esame di terza media quest'anno gli alunni sono tornati in classe già nelle settimane precedenti, già nei mesi scorsi. Questo è stato un fatto positivo però ha dato anche tante preoccupazioni a tutti noi. Siamo stati fortunati come scuola perché ad oggi se non qualche caso iniziale dopo il rientro abbiamo avuto la fortuna di non avere ulteriori casi se non sporadici. In questi giorni si è aperta la piattaforma della vaccinazione anche ai maturandi. Sì, i ragazzi devo essere sincero hanno accolto con entusiasmo questa notizia. Infatti ho saputo che molti si stanno prenotando anche se naturalmente personale e volontaria. Però io penso che i ragazzi sono favorevoli e per questo ho saputo che molti si stanno attivando per la pronotazione. Noi abbiamo pubblicato sul nostro sito la modalità per accedere alla piattaforma e quindi vedremo nei prossimi giorni l'evolversi della situazione. Questo diventa positivo, maggiormente positivo, proprio per quei ragazzi che sono fragili e che purtroppo non hanno avuto la possibilità di stare in presenza in quanto fragili e quindi con la vaccinazione avranno una maggiore serenità sia le famiglie che loro per poter fare l'esame in presenza. Ricordiamo anche a coloro che si accingono a sostenere l'esame di maturità che la non vaccinazione, essendo volontaria, non pregiudica in alcun modo la loro partecipazione all'esame. I ragazzi potranno liberamente scegliere di farla o non farla. La scuola comunque si sta attivando nel svolgere gli esami in presenza e in piena sicurezza. Ci sarà un distanziamento di due metri. I ragazzi verranno a scuola per la discussione dell'elaborato attraverso uno scoglionamento che sarà stabilito dal presidente di commissione. abbiamo noi nell'ambito del nostro istituto diviso le due commissioni in più sedi sia all'istituto nautico che all'istituto professionale in modo da avere l'opportunità di dare maggior spazio e ampia libertà anche ai commissari di non avere problemi di assembramento. Una volta che i ragazzi hanno deciso di iscriversi in piattaforma per la vaccinazione ai maturandi dovranno portare qualche documentazione specifica per la vaccinazione? Noi come scuola non abbiamo avuto nessuna comunicazione in tal senso però ho saputo da qualche ragazzo che già si è prenotato ed è stato già chiamato per i prossimi giorni la richiesta di un certificato di frequenza. Io direi che da parte dell'ASL è preferibile non chiedere il certificato di frequenza perché si andrebbe ad aggravare sulla segreteria un ulteriore lavoro ma potrebbero eventualmente chiedere alle scuole l'elenco dei maturandi in modo tale da avere la possibilità loro stessi di controllare se sono ragazzi che devono fare la maturità oppure no. Grazie a tutti.